rex more che detto francese occhio più buono visto occhio aperto ciao ciao rex la bottiglia per giocare si davvero è il cibo che adesso grazie a francesco che non c'erano più aspetta ciao amore ciao ciao ecco la porticina aspetta un attimo francesco dopo sopra solo sopra mai giù lasciate giù allora rex occhio bello venuto il dottore stamattina fatto prelievo sei stato buono e se soltanto sporco di terra non c'è manco più sporco di terra nel senso che sei pulito di terra non sporco di terra e occhio aperto occhio bello senza mucose al naso aspettiamo gli esami ma ce l'hai l'acqua zia aspetta ce l'hai l'acqua francesco e sta bevendo un sacco ma butto anche un poco d'acqua con la pompa a cadere tutto questo pelo adesso gli esami il tuo sangue rex è il nostro sangue sono in laboratorio per vedere che cosa c'hai e che si curiamo e che sarai un cane e che giocherà insieme agli altri vero aspetta schifo musca sai che penso anche francesco ah c'è acqua c'è acqua vabbè cioè non è proprio un video di quelli che ho fatto per farvi vedere ma era per salutare in diretta live vabbò devo far mangiare rex rex c'è di fame si amore si amore c'è fame c'è fame rex vabbè poi nell'appello vi dico un po' di medicine che gli dobbiamo dare nel frattempo che prende che vengono fuori risultati gli esami di lesmania e ricchia e leptospirosi insomma tutto un quadro generale che ha anche voglio dire non soltanto quello e nel frattempo gli diamo del vibravet dell'antibiotico dell'antinfiammatorio sicuramente un po' di ivomec per quanto riguarda la lesmania che quella cioè voglio dire certa non è che ci vuole la zingala per indovinare le concette si dice no e nel frattempo cioè rex è migliorato proprio in 24 ore in maniera esagerata cioè non saltava la terra e vabbè vado a prendere la bomba l'acqua e tutti mangiare tutto quanto va bene ciao amorino misco di insoli rex amorino che bella lingua rossa che hai vedi quando ti appena ti si può lavare antiparassitario a urge antiparassitario ma di quelli soprattutto per le pulce perché è un poco 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 investito di pulce vabbè ciao ciao rex ciao grazie 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 mamme grazie a tutti mi volevano ammazzare perché mi facevo schifo invece sono molto più bello che quello che pensavano guardare papa francesco che fare io sposare papa francesco che dici guarda lui ma ci buttiamo un po un po sul sul terreno perché nel frattempo ma chi si affa ma hai capito perché mi stavo bagnando francesco ah ma io ho la telecamera aperta grazie a tutti